Un po' di maretta nell'utenza per lo spostamento dei richiami di AstraZeneca, soprattutto a personale docente, per la seconda volta. Fatto questo che ha portato a diverse lamentele da parte degli utenti che si sono visti spostare il richiamo della vaccinazione più volte. Alla base c'è un ritardo nelle consegne su base nazionale però, ma da oggi non dovrebbero esserci più complicazioni con la nuova consegna. Ci sono intanto 2.000 dosi di Pfizer per i maturandi e nei giorni scorsi sono arrivate 15.000 dosi con la prossima consegna prevista per il 10 giugno. Arriveranno nella ASL 1 anche altri vaccini come Johnson e Moderna. Nonostante le rassicurazioni gli utenti hanno voluto spiegazioni, molti si sono presentati nei centri vaccinali. I richiami vanno fatti entro un tot di tempo, ma anche sul Pfizer si stanno spostando le seconde dosi da un tempo variabile che vai dai 21 giorni iniziali ad un massimo di 42. Per la ASL quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema, come spiega il dottor Enrico Gianzante. C'è stata qualche protesta, ma certamente non è di peso da noi. Avevamo delle richieste per quello che riguarda i richiami delle vaccinazioni, ma che si è verificato? C'è stato un ritardo nelle consegne, dovevano arrivare prima una quota il 31 maggio, una quota il 1 giugno. La struttura commissariale ha evidenziato che ci sarebbe stato un ritardo. La consegna avverrà per il 4 giugno, con disponibilità chiaramente dal 5 giugno. Non è di peso chiaramente da noi. Posso rassicurare le persone, dal 5 giugno possiamo ricominciare a chiamare e chiaramente un piccolo spostamento non comporta alcuna conseguenza. I vaccini saranno sicuramente efficaci e quindi direi a tutti di non preoccuparsi. Per quanto riguarda gli altri vaccini, avete le dosi? Anche per il Pfizer si è spostato un po' il richiamo rispetto ai 21 giorni che si facevano all'inizio? State operando anche voi in tal senso? Stiamo operando in tal senso, in quanto c'è stata una raccomandazione del commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, che ha raccomandato di somministrare a più persone possibile quella che è la prima dose, onde coprire un gran numero di popolazione. Quindi il richiamo si può fare tranquillamente per tutte e due le tipologie di vaccini mRNA, quindi Pfizer e Moderna, fino a 42 giorni senza alcun problema. È importante coprire la maggior parte della popolazione con almeno una dose. I vaccini, come avete sentito, stanno arrivando e quindi non ci sarà problema.